un minuto con padre pio dei luoghi del convento di san giovanni rotondo oggi ci troviamo proprio qui nell'orto del guardiano per raccontarvi una storia ecco vedete questo indirizzo di posta elettronica in sovraimpressione che vi invita a raccontare la vostra storia come entrato padre pio nella vostra vita beh ci sono tante storie e noi le stiamo leggendo un po alla volta come quella ad esempio di marco marco che è nato nel 1985 fabbro è videoproduttore residente in germania in un paesino vicino a stoccarda vive una profonda esperienza di fede legata proprio a padre pio di origini siciliane ha sempre coltivato una fede intensa particolarmente importante per lui considerando il suo passato turbolento segnato anche da episodi di bullismo durante gli anni scolastici vissuti appunto in germania dove gli stranieri racconta marco non erano ben accolti il 4 agosto 2022 e al lavoro e in fabbrica un po giù di morale per i sensi di colpa del suo passato quel giorno pregando intensamente di ricevere un segno da padre pio lui dentro di sé ripete padre pio ti vorrei tanto vedere anche solo per sapere che sei vicino a me che mi proteggi supplica marco quel giorno senza aver menzionato nulla e senza nemmeno aver comunicato questo ai suoi familiari riceve una foto una foto via whatsapp da sua suocera che si trova in autostrada in germania verso ulm e attraverso quella foto marco capisce tutto perché è una foto dove c'è padre pio in autostrada un chiaro segno per marco che si sente così confortato e protetto questo è un segno dice lui il giorno successivo si prepara per una vacanza a bibione in italia vicino venezia ma teme gli attacchi di emicrania soprattutto per il lungo viaggio allora ancora una volta si rivolge in preghiera allo stesso padre pio dammi la forza di viaggiare fai che non mi succeda nulla viaggia con noi padre pio ecco come quella foto il mattino della partenza mentre si prepara per l'alba avverte un forte odore di gelsomino così intenso da non poter essere un normale profumo e allora la presenza di quest'odore insolito che scompare poi rapidamente rafforza la convinzione di marco che padre pio sia con lui allora questo viaggio viaggio verso bibione riserva un altro evento singolare nonostante abbiano programmato accuratamente il percorso su tre dispositivi diversi tutti e tre i navigatori li indirizzano verso monaco di baviera anziché verso camp come desideravano questo imprevisto poi si rivela una sorta di benedizione perché marco crede fermamente che se avesse seguito l'itinerario pianificato avrebbero potuto trovarsi in pericolo giunto così a bibione marco si reca subito in chiesa per la santa messa qui per la seconda volta percepisce quell'odore quello stesso odore di gelsomino che conferma la presenza di padre pio in un momento di preghiera intima allora marco esprime un desiderio un desiderio sincero verso padre pio chiedendo una riconciliazione con suo zio con cui non aveva contatti da vent'anni a causa di vecchi dissidi familiari allora due giorni dopo riceve un messaggio da suo zio esattamente come aveva sperato durante quella preghiera la riconciliazione col suo zio segna un momento di gioia di pace per marco che attribuisce tutto alla guida all'intervento di padre pio una storia straordinaria che segna così la presenza la vicinanza e la benedizione di padre pio nei confronti dei suoi figli spirituali non solo quelli di ieri ma bensì anche quelli di oggi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti